Musica Benvenuti a Bordocampo Serie B, una nuova puntata dove parleremo dell'arrivo di Breda sulla panchina della Tina che ha portato un punticino prezioso dal tombolato di Cittadella, quindi analizzeremo con voi questo pareggio e lo faremo con Beppe Incocciati, buonasera mister Buonasera Aurora, buonasera a tutti Vado subito a Latina dove c'è Domenico Eppoliti con il gladiatore arrivato dalla Nocerina quest'estate a luglio ex capitano poi De Molossi, Alessandro Bruno, buonasera e benvenuto Buonasera a tutti voi Che poi è un regalo quello, perché per uno nato il 4 luglio è stato un regalo l'arrivo a Latina Sì, in effetti sì, è anche una data diciamo particolare in quanto in America si festeggia e quindi festeggio anche io qui in Italia Io un giorno prima Aurora Io un giorno prima Aurora Lo so, un giorno prima, io qualche giorno dopo, infatti lui è arrivato proprio il giorno del mio compleanno credo il 9 no se non sbaglio Il 9 è stato ufficializzato Sì, esatto, esatto Che memoria, che memoria Vedi, c'è tutta una data Pensa che è incocciati invece a luglio, che cosa festeggia a luglio in cociato? Niente Che che festeggi tu? No, io avevo un'importante ricorrenza che era la nascita di mio papà che purtroppo non c'è più e quindi a luglio Allora ho fatto bene Hai fatto bene C'entro anch'io Ho fatto bene, sì, questo luglio ho fatto benissimo Allora vi ricordo il numero per interagire con noi 331 12 45 625 331 12 45 625 E poi potete scriverci su Twitter Chiocciola Teleuniverso TV Oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Serie B Quindi vi ripeto Chiocciola Teleuniverso TV Oppure l'hashtag Bordocampo Serie B Mi raccomando scriveteci Scriveteci soprattutto di questo arrivo di Breda Perché noi eravamo qui la settimana scorsa Appunto a parlare di questo esonero sì, esonero no E' arrivato l'esonero con tanto di comunicato ufficiale da parte della società dell'Atina Ma oramai ce lo lasciamo alle spalle e parliamo di questa nuova avventura Che porta la firma di Roberto Breda Tutto sommato un pareggio a Cittadella che però è giusto, no? Beh sì, direi di sì Certo, insomma, c'erano dei timori Peraltro poi legati un po' all'evento del nuovo allenatore Quindi insomma un cambio di modulo Anche se poi effettivamente non è cambiato poi così molto Però diciamo che tutto sommato il punto da morale E quantomeno nella settimana che precede il prossimo impegno Ci sarà modo di lavorare un po' più serenamente Certo, dare anche più tempo al nuovo tecnico Alessandro vengo da te, al tombolato, un tempo a testa più o meno Sì, è stato così Diciamo, abbiamo affrontato questa partita nella maniera giusta Abbiamo preparato la partita in soli due giorni Il mister ci ha chiesto di fare delle cose Non potevamo fare di più perché comunque il tempo era poco L'abbiamo fatto bene C'è da lavorare ancora tanto Perché questo modulo per noi è nuovo E quindi, ripeto, dobbiamo bruciare le tappe Dobbiamo correre Perché il campionato va avanti Non ci permette, diciamo, di avere sosse Di avere, diciamo, altri Di avere passi falsi Stiamo lavorando con grande dedizione Con grande volontà Per cercare di far prima questa benedetta vittoria Speriamo che arrivi già venerdì Eh sì, perché in Latina Poi come il Cittadella è ancora a secco di vittorie Ma voi almeno un pareggio c'è stato C'è anche una squadra come il Padova Che veramente è ancora a zero punti Poi vedremo più tardi la classifica Intanto vi ricordo Il posticipo Ternana-Brescia Siamo sull'1-1 In questo momento Domenico, a te cosa è sembrata Questa prima di Roberto Breda? Ma a me è sembrato un Latina Che ha badato al sodo Ha puntato prima di tutto A presidiare il campo E a non correre particolari rischi Anche se un paio di passaggi a vuoto Ci sono stati nel corso del primo tempo Ma già nella ripresa Si è visto che la squadra Si è assestata meglio Non ha concesso praticamente nulla Ad un avversario A mio modo di vedere Alla portata Certo non era un Latina Nelle condizioni di osare Di azzardare di più Ha avuto delle occasionissime Per passare in vantaggio Ha trovato davanti Un Di Gennaro In forma smagliante Però sicuramente Dei passi avanti Soprattutto sul profilo Della compattezza Dell'equilibrio Certo Venerdì è tutta un'altra Questione Un'altra prova Per i Nerazzurri Perché bisognerà Bisognerà proporsi Bisognerà essere aggressivi Contro un Lanciano Che Per donate il gioco di parole È lanciatissimo Sì Comunque Breda ha portato Una ventata di entusiasmo Domenico Lo voglio chiedere a te Diciamo che da parte Dell'ambiente C'è grande fiducia C'è grande fiducia Dopo la frattura Che si era verificata Della quale abbiamo Abbondantemente parlato C'è grande fiducia Nei confronti Di questa nuova gestione Tecnica Nei confronti Di come la squadra Può e deve rispondere Da parte della tifoseria C'è questo atteggiamento Anche Domenica È stato accolto Con sabato Scusate È stato accolto Con soddisfazione Questo pareggio In casa del Cittadella Insomma Sembra che l'entusiasmo Stia tornando Dopo La brutta giornata Vissuta Contro il Varese Ecco Io volevo chiamare In causa subito Alessandro Nel Latina Cosa è cambiato Con questo avvicendamento In panchina Ma A dire il vero È il modo di stare in campo Per adesso Perché comunque Lavoravamo prima E abbiamo iniziato Diciamo Questa settimana Nello stesso modo Continuiamo a lavorare Con grande voglia E volontà Questo lo facevamo prima E continueremo a farlo Per adesso Diciamo È cambiata Questa disposizione La disposizione in campo Abbiamo giocato Con un centrocampista In più Ed una punta in meno E siamo stati Un po' più coperti Abbiamo coperto Il campo In maniera diversa E ci ha portato A questo punticino Con un pizzico di fortuna Secondo me L'avremmo potuta Anche vincere Ma adesso Se le partite Non si possono vincere L'importante È non perderle Certo Muove la Cassi Questo è fondamentale E poi soprattutto Io sottolineerei Il fatto che Il Latina Non ha preso gol Dopo sette gol Subiti In tre partite Sì Infatti Questo è un altro Dato positivo Dopo la trasferta Di Cittadella Non abbiamo preso gol E con le qualità Che abbiamo lì davanti Se non prendiamo gol Il gol Prima o poi Lo facciamo Perché in avanti Abbiamo veramente Giocatori di grande Qualità E di grande spessore Alessandro Permettimi Per te Cosa è cambiato Con questo avvicendamento Ma Per quanto mi riguarda La posizione in campo Perché È una cosa Giocare In un centrocampo a quattro Fare il centrale Di centrocampio È una cosa Diciamo Fare La mezzala Come ho giocato Diciamo Domenica Sabato La mezzala Richiede Tante altre situazioni Tante altre giocate Lavorerò intensamente Perché comunque È un ruolo Che non ho mai fatto Che comunque Il mister mi ha chiesto Di farlo Ho fatto con grande volontà Con grande Dedizione Ma Devo lavorare tanto Perché ripeto Non l'ho mai fatto E quindi C'è da lavorare Certo Il modulo di Auteri E la posizione Era più tua Perché comunque Hai lavorato per tanti anni Con Il tecnico siciliano Eh Sì Richiede Sì Ho giocato per parecchi anni E quindi Richiedeva Altre situazioni Ripeto Adesso Con un 3-5-2 Le corse sono diverse I movimenti sono diversi E quindi Io Insieme alla squadra Dobbiamo in fretta Subito Diciamo Recuperare il terreno Perché Ripeto Il campionato Non ci aspetto Alessandro È l'ambiente Che non ha capito Auteri O Auteri Che non ha capito L'ambiente Ma Purtroppo Purtroppo è così Nel calcio Se non arrivano I risultati Subito Ti condanna Per quanto riguarda Il mister Le sue squadre Comunque Prima che Gioca in un calcio Propositivo E D'intensità Ci vuole tempo Questo tempo Qui a Latina Non è stato concesso Mi dispiace tantissimo Perché Era una situazione Bella Che si poteva creare Entusiasmo Però Peccato Che i risultati All'inizio Non sono arrivati Ma adesso Dobbiamo cambiare Voltare pagina Dobbiamo guardare Il presente E il futuro La Latina E adesso Il futuro Il presente La Latina Si chiama Roberto Breda Siamo noi I artefici Componenti Di questo Presente Ripeto Dobbiamo subito Riboccarci le maniche Per cercare subito Di portare i punti a casa E di quanto prima Raggiungere la salvezza Domenico Prima di passare All'analisi Di Beppe Incocciati Breda Ritorniamo un attimo Sul comunicato Poi ufficiale Quando ci hanno Ecco Comunicato Che era arrivato Roberto Breda A sorpresa Quindi Un'altra volta La società Come per Auteri Ha tirato fuori Dal cilindro Breda Nello supporto di tutti Hai ragione Hai ragione Di contatti Di chiacchierate Ce ne sono state Tante Le ha chiamate Audizioni Il Vicepresidente Maietta Alla fine Quello che ha convinto Di più È stato Roberto Breda Perché Da come hanno dichiarato Gli stessi dirigenti Nello Azzurri È stato quello che ha mostrato Maggiori motivazioni Maggiore voglia Maggiori argomenti Evidentemente Per mettersi alla guida Di questa squadra E sta dando ragione loro Insomma Per quello che ha iniziato A far vedere Innanzitutto Grande praticità Grande sostanza Adesso lo attendiamo Per ulteriori esami Chiamiamoli così E poi ha detto di sì A Latina In dieci minuti Che non è poco Dopo ore e ore Di selezioni Di audizioni Come le hanno chiamate loro Arrivato Breda Lo sai che cosa ha in comune Con te Roberto Breda Mister? Non mettermi sempre in mezzo No Ha una cosa in comune con te Una cosa Allora Innanzitutto Che siete stati tutti e due Calciatori Poi Allenatori E anche assessori Anche lui è stato Assessore Peraltro ha fatto il corso Come abbiamo fatto il corso Insieme a Coverciano Credo quello di seconda Quindi insomma Ah quindi è un tuo amico Mister Roberto Di solito insomma Tra allenatori Visto che siamo così Obbligati a frequentare i corsi Necessari per avere l'abilitazione Spesso ci si incontra E spesso ci si ritrova Roberto Breda è uno di quelli Allora analizziamo la prima Di Breda Che cosa hai visto? Io so che subito all'inizio Pronti via E già hai visto qualcosa Giusto? Abbiamo selezionato Ma diceva prima Alessandro Bruno Quale saluto? Perché insomma Ci siamo incontrati di diverse volte Salve mister Buonasera Un abbraccio forte Non vi siete incontrati Nella finale playoff? Noi ci siamo incontrati Nella finale Ci siamo incontrati altre volte Scontrati Ci siamo scontrati parecchie volte Ci siamo scontrati Io ragazzi ho detto Incontrati Perché era più carino il termine E voi gli dite scontrati Eh sì perché Perché le nostre sfide Era più carino Adesso incontrati Le nostre sfide Erano sempre caratterizzate Da squadre Diciamo Con un certo spessore Non solo tecnico Ma anche organizzato Insomma quindi Spesso Chi veniva a vedere le nostre gare Si divertiva O no È vero Prescindere da tutto Allora vediamo che cosa Hai selezionato per noi Detto questo Ripartendo da quello che dice lui Breda Ha necessità Come è giusto che sia Soprattutto di ecco Mettere nella testa Dei propri giocatori I nuovi giocatori Quello che è un proprio credo E credo che Soprattutto Non è il caso Della prima gara Sicuramente Ma bisogna Giustamente Cercare di trasmettere Quello che è anche Un certo tipo di coraggio Tattico Soprattutto quando ci si schiera Pensando di Tra virgolette Eliminare una punta E mettere un centrocampista In più Bisogna essere molto propositivi Nella zona centrale Del campo Altrimenti si rischia Di presentarsi Sempre al cospetto Degli altri Addirittura con una linea Di gioco Che non è più A tre dei difensori Ma può diventare a cinque Se non si ha Quello che ho appena detto Andiamo in effetti Dall'inizio Cosa che io ho immediatamente Visto Ma che sicuramente Fa parte proprio Della gara Nello specifico La prima gara Del nuovo allenatore Una squadra Ancora un po' contratta Perché lo si vede Immediatamente Bruno lo sa bene Quando ci si schiera Si capisce immediatamente La squadra avversaria Se è propositiva O se stenta O se ha delle difficoltà Sotto l'aspetto psicologico Se andiamo un attimo Con le immagini Che ha selezionato Il mister Epple qui Se fermiamo un attimo L'azione da qui Vediamo insomma Lo schieramento Se puoi tornare un po' indietro Rocco Vediamo in effetti Lo schieramento I centrocampisti Diventano a tre Come diceva Bruno I due Con il terminale difensivo Che è Secas Lo vediamo al centro Del campo Dell'Atina E qui immediatamente Si vede qua sotto Il teleschermo Alassane Che ha un atteggiamento A mio avviso Siamo proprio all'inizio Della gara Ancora un po' timoroso Lo vediamo nella posizione Dove è addirittura Dietro la linea Di Secas La palla è già in atto Possiamo andare avanti Con le immagini Perché lui doveva stare dove? Lui doveva Ecco adesso Lo facciamo vedere Vediamo qui È attendista Vediamo che si muove Mi sembra Sei tu Alessandro O è Morrone Ecco Alessandro Perché Apro una parentesi Abituato Con dei concetti Differenti Molto aggressivo Parte per primo Ma credo che sia stato Diciamo opportuno Far vedere questo Perché insomma Vediamo Alassane In questo momento Avrebbe dovuto fare Se lo vediamo Evidenziato Ecco Questo tipo di situazione Lo vediamo Immediatamente Sul tempo di gioco Essere addosso All'avversario Da consentire a Bruno Immediatamente Un'azione Ecco Sotto l'aspetto Proprio della proposizione Invece Stent ad arrivare Così come Scusa mister Ti blocco un attimo Ma passare dal 3-4-3 Al 3-5-2 C'è una bella differenza Quindi anche di atteggiamento Di mentalità Uno è iperoffensivo L'altro è più Ecco attendista Come dicevi tu Forse anche il modo Di giocare di Breda Io È un mio modo Io credo che Non si può Non si può Diciamo Essere propositivi Dipende anche Da quello che Insomma Si riesce Ad avere chiaro In quello che è Un sistema tattico Io credo che Un giocatore A prescindere Deve essere sempre Propositivo Cioè Un giocatore Deve comunque Scegliere Gli ottimi tempi Di gioco Che soprattutto Nella pressione Deve essere immediata Non deve essere Attendista Soprattutto quando In un centrocampo A 5 Si ha Nella zona clou Nella zona centrale Si hanno tre uomini Che stazionano In quella zona E quindi danno Coperture straordinarie In quel momento Io credo che Alassane Così come dall'altra parte Ristoschi Devono prendere coraggio Ad alzarsi un po' di più Altrimenti rischiano Di lavorare sempre Su una linea di gioco Quella di Seca E secondo me Ci saranno degli intoppi Se questo non verrà Messo in ordine Così come La posizione Abbiamo visto Nelle passate Gare Bruno e Morrone In difficoltà Nella gestione Dello spazio Dietro le loro spalle Perché spesso I laterali Consentivano Da una parte Bruno Dall'altra Morrone A uscire lateralmente Cosa che insomma Un centrale Di centrocampo In un centrocampo Si era da 4 Deve fare Insomma molto razionalmente Spesso Bruno Soprattutto Bruno Che è uno molto Disponibile A questo tipo Di corsa È stato costretto A uscire lateralmente E quindi inevitabilmente A subire nella zona centrale Del campo Con l'ingresso Dell'argentino A patto Di Secas Lo chiama l'argentino Lui Perché con gli argentini C'ha un feeling particolare Sì Beh Voglio dire Anche per essere un po' più chiari Secas è argentino Anche Maradona Un complimento Mister Vai I compiti di questo Di questo ragazzo Sono importantissimi Per il Per sostenere un po' Anche l'azione Soprattutto nella fase Di non possesso palle Dei due centrocampisti Morrone E Bruno Qui presenti E non si può Esimmersi da questo Perché il centrale C'è il terminale Offensivo del centrocampo A tre Deve essere Difensivo del centrocampo A tre Deve essere Liggio al dovere Deve Deve garantire La presenza La presenza in quella posizione Vediamo Per esempio In un'azione Dove questo Secondo me È ancora Da registrare Andiamo avanti Con le immagini Sì vediamo Vediamo Lo vediamo Qui al centro del campo Quella è la zona Dove il centrocampista Con quelle che deve stazionare Qui Succede un qualcosa Dove È stato bravo Il portiere Del Latina Così A parare Però questo era Un gol praticamente fatto Ci sono degli errori Vediamo È uscito Il centrale Difensivo Mi sembra Cottafava In alto Brosco Non chiude Con i tempi giusti Torna indietro Torna indietro Per cortesia E in quella zona Dove Vediamo Col punto Di domanda Ci sarebbe dovuto Stare Secas A garantire Diciamo La copertura Non c'è nessuno L'attaccante Si abbassa Prende palla Vai avanti Vai avanti E questa è un'azione Pericolosissima Dove Bisogna immediatamente Porre il rimedio Perché in quella posizione Si sviluppano la maggior parte Delle azioni in verticale Che fanno male In questo caso È andata bene La latina Insomma c'è ancora un po' Da registrare Queste sono le immagini Che hai selezionato Allora andiamo a leggere Un po' di messaggi Non so se Sentiamo se Se Alessandro Voglio leggere prima qualche messaggio Perché magari c'è Qualche domanda Tecnico-tattica E te la poniamo subito E poi sentiremo Se Alessandro Si rispecchia In questa analisi Di Beppe Incocciati Incocciati Come hai visto In Latina Come hai visto In Latina di Breda Gliela ce l'ha detto Poc'anzi Con Breda La squadra più serena Forza Latina Cerchiamo di salvarci Tranquillamente Aurora Sella Questa è difficile Il mister che trasmette Il mister che trasmette Serenità Lo abbiamo visto anche Nelle interviste Quindi questo è un fatto positivo Assolutamente Sul profilo psicologico Ripeto Aspettiamolo Sull'aspetto Prettamente tattico Confidiamo insomma In novità importanti Anche su questo fronte Alessandro Ti rispecchiavi In quello che diceva Il mister? Ma sì Il mister È molto È molto bravo Quindi Subito è andato Diciamo A toccare i punti deboli A toccare subito I punti che non sono andati bene Ripeto Per noi È un modulo nuovo Quindi C'è solo Da migliorare Dobbiamo ancora Analizzare la partita La faremo domani Quindi Vediamo domani Che cosa Cosa ci dirà Il mister Dove Dove dobbiamo migliorare Cosa dobbiamo fare Con più intensità Ripeto Il mister Ha portato Grande voglia Grande determinazione Ci sta trasmettendo questo E speriamo Di accorciare i tempi Perché ripeto Come ho detto già prima Il campionato Sì è lungo Però Adesso i punti Con cui stare adesso Valgono doppio E quindi Dobbiamo Dobbiamo subito Rimborcarci le mani E abbiamo Questo lunedì Parte una nuova rubrica Caro mister Una rubrica tutta Di Domenico Ippoliti Che Ne abbiamo pensato All'inizio alle pagelle Poi lui Che cosa si è inventato Invece Alti e bassi Allora Iniziamo Domenico Parte ufficialmente La tua rubrica Subito gli alti Vediamo Grazie all'aiuto Della nostra grafica Ecco Claudio Iadecola Prontissimo Con Stefan Ristoschi Che noi conosciamo bene Perché Ha giocato nel Frosinone Tu che cosa Che cosa hai visto Sabato Eh me lo ricordo Me lo segnalò Una persona Che lo conosceva bene Che si dichiarò Entusiasta Dell'arrivo di Ristoschi A Latina Te la ricordi Questa persona St'estate Aurora Me ne hai parlato Benissimo Di Ristoschi Sì ero io Che ti faci l'analisi Precisissima Di Ristoschi Assolutamente Perché È veramente Un ottimo giocatore Sì Sabato è stato Una spina nel fianco Per i giocatori Veneti Ha indovinato Delle percussioni Degli inserimenti Sulla destra Veramente Efficaci Si è rivelato Uomo assist Perché ha dato A negro Quel pallone Fantastico Inizio ripresa Ha colto anche Un palo Su un fuorigioco Sul quale Si è dubitato Un po' E poi Ha spinto Ha messo in grossa difficoltà La difesa avversaria Dando anche Un assist Offrendo un assist Al Jonatas Per la prima occasione Dell'Atina Dunque Importante Propositivo Grande personalità Certo Gli serve più continuità Ma è sicuramente Sulla strada giusta E si profila Quello che già avevamo Anticipato Ospitando Capitan Milani E cioè Un ballottaggio Riguardante quella fascia A meno che non si trovino Ulteriori soluzioni Per far giocare entrambi Poi Chi altro è selezionato Come tra gli alti Tra gli alti Marcello Cottafava Eh sì È una costante Anche se va Sottolineato comunque Che la sua difesa Chiamiamola La sua difesa Ha avuto Un paio di Defaianze Nel corso del primo tempo Però comunque Ha saputo registrare Il reparto Soprattutto alla distanza Eh Ha governato La situazione Come Come suo solito Insomma L'ennesima conferma Da parte del Senatore Che vestiva la fascia Da capitano Sabato Ancora un alto È selezionato Riccardo Brosco Quindi due nuovi Arrivi Un veterano Sì è vero Mi aveva già fatto Un'ottima impressione Nell'impatto Con la partita Quando era subentrata Odeggiosa Domenica Al Francioni Contro il Varese E anche Anche sabato È stato puntuale Preciso Pulito Nelle chiusure Certo anche lui Deve entrare meglio In certi meccanismi Tutta la squadra Di trovare L'assetto giusto Però sicuramente Si sta confermando Non tanto una promessa Quanto una garanzia Per questa Retroguarda Ricordiamo anche La giovanità Di Riccardo Brosco Uno dei giovanissimi Di questo Di questo Latina Giovane ma con Serie B Già alle spalle Quindi ha già la sua esperienza Pescara Insomma ha avuto Sicuramente le sue Parentesi importanti Infatti Il mister Incocciati Lo ricorda proprio Pescara Giusto Brosco Tu che cosa ne pensi Di questi alti Che ha selezionato Domenico Sei d'accordo? Non ho nulla da dire Nulla da dire? Non ho nulla da dire Ma è una cosa Su Brosco Che sicuramente Deve migliorare Alcune situazioni Lui che è un esterno Laterale Quindi è chiamato Nella difesa 3 In questo caso Del Latina Ad avere dei compiti Differenti Insomma E quindi deve essere Messo nella condizione Di così Avere quelli che sono I tempi giusti Soprattutto nelle chiusure Ed abbiamo ora I bassi Domenico Ai 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 Che abbiamo messo Per primo Al suo debutto Max Secas Ma proprio perché Era il debutto Sì Diciamo che il suo Approccio alla gara È stato un po' Titubante L'ha sentito forse Anche emotivamente Sì Il debutto assoluto Per lui in Serie B Va però sottolineato Che Max Non giocava Dal 16 giugno Quindi non avere Una partita Sulle gambe Insomma Incide come Con tanti compagni Nuovi Insomma Ha faticato un po' Ha perso un paio Di palloni Che potrebbero essere Pericolosi E poi Insomma Si starà mangiando Le mani Per quell'occasione Che Di Gennaro Gli ha impedito Di tramutare in rete Però la distanza È cresciuto Quindi pian piano Modi diesel È riuscito a migliorare Sicuramente Avrà modo Di riscattarsi E di offrire Il rendimento A cui ci ha abituato Mi permetti di chiedere Ad Alessandro Se Seca Se è meglio Da avversario O da compagno Visto che lo scorso anno L'ho affrontato Sono giocatori Che è meglio Averli Come compagni di squadra Senza ombra di dubbio Vediamo poi Chi altro è selezionato Tra i bassi Ecco Gezzal Si Gezzal ha offerto Degli sprazzi Si sono visti Dei lampi Da parte sua Delle giocate Sicuramente interessanti Però Non è ancora Al top E si vede Tra l'altro L'ho visto in difficoltà Quando gli è venuto A mancare Il partner centrale Quando Jonathan Si è infortunato È entrato un giocatore Di movimento Quale Michael Negro Sicuramente Non è ancora Il Gezzal Che tutti speriamo Di vedere Al Francioni Ma sta lavorando Per arrivare Alla forma migliore L'ultimo Che tre virgolette Hai bocciato Tra virgolette Alassane Ci mancherebbe Non mi far ridicare Subito con i giocatori Perché qua Se no Ma no Ma no Assolutamente Però sai Hai visto Alti e bassi Un pochino Te la rischi Domenico Eh sì Sì sicuro Guarda Alassane ha un potenziale Secondo me Formidabile Perché è un giocatore Atleticamente Anche tecnicamente Ma atleticamente Ha dei mezzi notevoli Lui quando parte Palla al piede Veramente Da l'impressione Di poter Di poter far male Agli avversari Non riesce Ad avere La concretezza Sbaglia L'appoggio Insiste Su quel dribbling Di troppo Si perde un po' Sul più bello Quindi gli manca Quel qualcosa in più Ma questo dipende Anche dai meccanismi Di cui parlavamo prima Anche con Mr. Incocciati Spesso è preoccupato Da come applicare Il movimento Sulla fascia sinistra Secondo me Quando prenderà confidenza Potrà esprimere Tutto il suo valore Perché ricordiamo Che siamo comunque Ancora alla quarta giornata Ma tu sei d'accordo Con i bassi Di Domenico Eppoliti? Sì sì No 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 Sono d'accordo Sono d'accordo Soprattutto su Alassane Che deve Come abbiamo detto Prendere più Diciamo Coraggio Soprattutto adesso Col fatto che ha dietro Diciamo le spalle Tra virgolette uno Come Bruno Che è bravissimo E disciplinato Tatticamente Capirà che può Spingere un po' più In propulsione Che è quello Che poi insomma Rientra nei compiti E funzioni Di chi gioca In quella zona Del campo Quindi un mix Poi di esperienza E gioventù Perfetto Questo Del Latina Ma io volevo Sapere proprio Da Bruno Chi ti ha impressionato Di più Nella tua squadra Durante gli allenamenti Sai Nel confruttarsi Devo dire Devo dire Che la società È stata brava A prendere giocatori Di qualità I giovani Sono bravi Voglio ricordare Chiricò Che è un giocatore Molto Molto bravo Ci sono parecchi C'è Iuri Cisotti Che è molto bravo Ma Anche gli altri Ristoschi Che Anche Alassane Sono giovani Tutti di qualità Dobbiamo Ripeto Dobbiamo fare Solo qualche Qualche vittoria Per Per far sì Per lavorare Con più Tranquilità E per cercare Di fare in campo Le giocate Con più serenità Tutto qua Alessandro Io prima ti ho definito Un gladiatore Perché lo spessore Di te come giocatore Lo conosciamo Lo conosciamo tutti Ma è vero Che non fai gol Perché non guardi la porta? No Devo dire Che non ho fatto gol Perché Le mie Quello che facevo in campo Con Diciamo Con un 3-4-3 Mi richiedeva molto Uno sforzo Diciamo Di ripiegamento Di Di costruzione Del gioco E quindi In pratica Facevo Pochi inserimenti Magari con le spalle coperte Adesso Tutto qua Perché il compito Di dirla perché è comunque una tua battuta Che è un'intervista che io ho spulciato Perché la tua storia è molto bella Perché la tua storia è molto bella C'è una storia di questo ragazzo veramente fantastica Perché era forse nel 2009 che tu eri a Catanzaro Arrivò a Uteri e ti dissero fai le valigie Poi tu dicesti no convocatemi lo stesso Il ritiro Fatemi venire il ritiro E da lì ti sei messo sotto a lavorare E grazie anche ad Auteri Hai studiato bene la mia storia Perché è stupenda Alessandro Mi è piaciuto tantissimo Perché stavi per gettare la spugna E poi invece Guarda che giocatore che sei diventato Perché poi con la nocerina Eri uno dei migliori in serie B Quindi questo sottolineamolo Che sei proprio cresciuto calcisticamente Grazie ad Auteri E soprattutto mentalmente Perché tu stesso ti sei definito una testa calda Che prendevi e che non giocavi a calcio Ma tiravi i calci Sì È vero È vero È vero Feci un po' di tempo fa queste interviste È vero Non prendevo sul serio il gioco del calcio Mentre questo è uno sport dove richiede tanti sacrifici Si richiedono tanti sacrifici Ti devi allenare sempre in un certo modo Io purtroppo l'ho capito solo a 26 anni Un po' troppo tardi Però è stato fondamentale Quell'anno lì Averlo capito Mi sono messo sotto a lavorare Ci ho creduto E mi sono ripartito Tutto qua E poi dopo Ci sono arrivate anche delle piccole soddisfazioni Ecco ci ti devo a sottolineare questa storia Perché puoi essere un esempio Per tanti calciatori E veramente anche per chi ci segue a casa Perché anche nella vita di tutti i giorni Possono accadere queste cose Quindi chi si rialza per me Deve essere lodato Giusto mister? È giusto Entro anche io nel merito Perché insomma Quando io ho incontrato Alessandro Da avversario Era sempre uno Tremavi? No Adesso non esageriamo Alessandro È vero Era uno Soprattutto il principale Giocatore A cui io riservavo Determinati Abbiamo parlato di tempi di gioco Perché era il cardine Del centrocampo Del 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 Casanzaro Dove lui Insomma era colui Che faceva un po' girare la squadra E quindi io avevo Delle Delle attenzioni particolari Su di lui Non sempre ci sono riuscito Però insomma Quando ho incontrato Le mie squadre Lui È andato Quanti uomini Ti mettevi su? È andato in difficoltà Quanti uomini ti mettevi su? No 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 Non era una sorta di gabbia Ma era una pressione costante Che comunque Mi limitava sempre Nelle giocate Quindi Questo comunque In campo poi ti rendi conto Che ti mette in difficoltà E intanto il Brescia Sta vincendo Contro la Ternana Per 2 a 1 Ma andiamo a vedere Tutti i risultati Della quarta giornata Nel torneo cadetto Ecco la schermata Con annessa Che poi classifica Bari Modena 1 a 0 Carpi Empoli 0 a 2 Cittadella Latina 0 a 0 Crotone Spezia 1 a 0 Juve Stabia Siena 2 a 2 Novara Padova 1 a 0 Palermo Cesena 2 a 1 Che è stato l'anticipo Del venerdì Tra l'altro commentato Da Beppe Incocciati Quindi adesso Mi parli un attimo Del Palermo Perché ho una cosa Da chiederti Ternana Brescia Appunto È il posticipo Di questa sera Trapani Regina 4 a 0 Varese Pescara 3 a 2 Virtus Lanciano Avellino 1 a 0 Tra l'altro Trapani Regina Nella Regina Gioca il portiere Massimiliano Benassi Che purtroppo Ha avuto una brutta Botta alla testa Ieri ha colpito Il palo con la testa E quindi ci sono stati Attimi di paura Veramente per Il portiere Nativo di Trevigliano Che saluto Calorosamente Perché poi fortunatamente Si è ripreso Lui addirittura È svenuto Ieri Per questo colpo E quindi Lo salutiamo Massimiliano Benassi Invece ti volevo chiedere Guardando la classifica Innanzitutto Vediamo che Incomincia un po' A delinearsi Quest'Empoli Che sta lì In testa Ma soprattutto Trapani E Virtus Lanciano Ma il Trapani È quella che è un po' La sorpresa Di questo campionato Il Trapani L'abbiamo detto Ha mantenuto Diciamo In alta percentuale Quelli che sono Stati gli undicesimi Degli anni passati Questa dimostrazione Che La struttura La convinzione La disciplina Così Appresa Negli anni Da un allenatore Che comunque È rimasto sempre lo stesso Danno delle garanzie Vediamo In questa categoria Fino a quando Questo sì Io Credo Però non ci si aspettava Il Palermo Di certo Dietro il Trapani Beh il Palermo Inizia male Ma Io L'ho vista L'ho commentata L'ultima gara E devo dire Che insomma È una squadra Che Se riesce Ad essere convinta Proprio dall'inizio Perché all'inizio Stenta un po' E poi Ha dei cali Soprattutto fisici Che io ho notato Insomma Nell'ultima telecronica Che ho fatto Ma Ha delle individualità E poi Mi è piaciuta Una mossa Fatta da Da Gattuso Non me l'aspettavo Ha fatto una mossa Tattica Sì Ha messo in ordine Alcune situazioni Proprio quando Stava vincendo E la squadra Era entrata In seria difficoltà E da lì Ho capito Che insomma C'è anche La struttura Ma sono un po' Indisciplinati Perché in quattro gare Sei espulsioni Sono un po' come Loro mister Il carattere Un po' cattivielli Lo rispecchiano Io vado per intuito Ma magari si devono Registrare anche Questa gestione Motiva Che sicuramente Li penalizza Perché insomma Bisogna stare attenti Anche a quello Che è poi Il processo Delle ammunizioni Che si Così Che si prendono Durante Durante l'anno Perché ci sono Dei momenti In cui Bisogna essere bravi Anche a gestire Questo tipo di situazioni In questo momento Forse è l'unica pecca Che il Palermo Deve registrare Alessandro Trapani Avellino Te ne aspettavi Questo espluà iniziale Soprattutto del Trapani Ma Devo dire la verità Sì In questo momento Storico Sì Perché Perché loro Hanno mantenuto Gran parte Dell'organico Dell'anno scorso Hanno fatto Qualche accorgimento E quindi Partono un po' Avvantaggiati Rispetto Diciamo Ad un latino Ad altre squadre Comunque Hanno cambiato Hanno cambiato Di più Quindi loro Sulle ali Dell'entusiasmo Sulla Sulla voglia Del gruppo Me l'aspettavo Che partissero Così Così bene Qualche piccolo accorgimento Che si chiama Diuric Lì davanti Il Cesena Magari si starà Mordendo le mani Perché è in prestito Dal Cesena Cesena che ancora Non riesce ad emergere Così come tutte le altre Squadre Che ci si aspettava Il Cesena Io l'ho anche detto In telecronaca Se si pensa Nonostante L'importanza E la categoria Ad andare a Palermo Per non prenderle E quindi Assumere un atteggiamento Proprio Finalizzato Esclusivamente A quella Che è la fase Non possesso Palla Credo A mio Madesto Parere Che sia Molto riduttivo Per un allenatore Di quel calibro Io credo Che Soprattutto il Cesena Avrebbe dovuto Perché poi alla fine Si perde lo stesso Però Perdere Magari Di avere Un gioco Un impianto Di gioco Che comunque Tiene presente Sia la fase Non possesso Ma in prevalenza Perché non lo dimentichiamo Che questo gioco È stato inventato Talmente bene Che l'importanza L'essenza È quella di cercare Di mettere la palla Dentro la porta avversaria A non cercare Di non prenderle Prima bisogna avere Questo tipo di atteggiamento A mio avviso E poi Se mai Registrare Un po' anche La fase Di non possesso Le migliori verranno fuori Alla distanza Alessandro Ma io Penso di sì Che alla fine Gli organici migliori Gli organici Che hanno più qualità Alla lunga Usciranno Perché La Serie B Sì è lunga Ha tante insidie Però è vero anche Che parecchie squadre In organico Hanno giocatori Che possono Possono Cambiarsi la partita Da un momento all'altro E quindi Chi ha in organico Questi tipi di giocatori Chi ha in organico Ben attrezzato Alla fine Uscirà Come ricordo Chiricò Che cambiava Totalmente Le dinamiche Delle partite Quando entrava Chiricò Che giocava con Auteri Nel Lanciano Che non c'è più Chiricò Perché sta a Latina A proposito Chiricò Orora Permettimi una domanda A mister Incocciati Abbiamo parlato Del 3-5-2 Il Lanino dispone Di tanti esterni Offensivi Si potranno Adattare al ruolo Di seconda punta Non parlo solo Di Chiricò Ma anche di Barraco Dello stesso Negro Cisotti Guarda Si può fare tutto Questo gioco Poi Si può fare anche L'errore Che magari Mischiando alcune situazioni Fai gol E pensi di aver risolto Delle problematiche Io Sono per Quello che è Anche la tipologia Dei calciatori E credo che Insomma Un calciatore Negli anni Si è formato Avendo determinate Caratteristiche E credo che Non bisogna Allontanarsi Più di tanto Da questo Cioè un esterno Nel 3-5-2 Obiettivamente Un tipo come Chiricò Farà fatica A giocare Diciamo Intorno a un Terminale offensivo Così come Farà fatica Negro A giocare Secondo me Perché Negro Io Conoscendolo Anche negli anni Credo che Possa dare il meglio Di se stesso Partendo lateralmente Insomma Bruno mi può dare Conferma su questo Gli esterni Si addicono molto A quello che Io per esempio Avevo Babù Insomma Pensare che Babù Potesse giocare Dietro una punta Era improponibile E quindi Insomma Credo che Il 3-5-2 Così Sia un po' Riduttivo E limitante Per quelli Che sono i giocatori Che hanno Questo tipo Di caratteristiche Però Insomma Credo che Breda È abbastanza bravo Per poter Anche essere Camaleontico Su certi Sicuramente Questi giocatori Torneranno Utili Magari A sistemi di gioco Dell'occorrenza Vedremo come Breda Preparerà Quest'anticipo Del venerdì Latina Virtus Lanciano Anche l'undici Di Marco Baroni Comunque sta sorprendendo Alessandro Sì È vero È partito bene E Hanno cambiato Qualche giocatore Rispetto all'anno scorso Stanno Stanno Lavorando bene Lì C'è un mio amico Giambito Plasmati E mi dice che comunque Stanno lavorando Con grande entusiasmo Il mister è un buon Allenatore Sono tranquilli E quindi questo Gli ha permesso Di fare questo inizio Di campionato positivo Mi sono incocciati Ti aspettavi Baroni Che dove Tu sei stato compagno Al Napoli Di Marco Baroni Te l'aspettavi Questo Espluante Anche da allenatore Beh lui ha fatto bene Soprattutto nelle giovanili Della Juventus Nella prima vera Della Juventus Si Ha vinto qualche Importante trofeo Poi ha iniziato Tempo fa Credo in In Lega Pro Se non erro In seconda divisione Al Ferralpi Salò Se non erro Poi ha avuto La Carrarese La quale io mi sono incontrato In Coppa Italia Aveva un organico Importante Però quell'anno Non è andato molto bene Credo sia stato allontanato Dalla panchina Adesso si è riproposto Sta facendo molto bene Credo che le esperienze Vissute Nel passato Gli siano servite Per aumentare Un po' quello che è Il bagaglio tecnico E conoscitivo Di questo mestiere Che si stacca Talmente tanto Dal fatto di essere Stati giocatori E sono convinto Che continuerà a fare bene Avete vinto la Supercoppa Insieme voi Al Napoli Sì Ma noi abbiamo fatto La trafia delle nazionali Insieme Insomma è un ragazzo Che è del 63 Come me Un ragazzo infatti Un ragazzino Ma vediamo Il programma gare completo Della quinta giornata Di campionato Partendo appunto Dall'anticipo Del venerdì Latina Virtus Lanciano Poi abbiamo Avellino Varese Brescia Crotone Cesena Carpi Cittadella Juve Stabia Empoli Padova Il Padova Che ancora non ha mai vinto Con l'Empoli Adesso non lo so Come se la mette Modena Trapani Pescara Bari Regina Novara Siena Ternana Spezia Palermo Segnariamo il match Più avvincente Anche questa settimana Ce ne sono diversi A mio avviso Avellino Varese Vediamo questo Varese Che conferma Peraltro a suon di golle Anche la successiva giornata Vincendo in casa Con un Avellino Che non è che abbia Demeritato molto A Lanciano E questa potrebbe essere Una gara Poi L'hai detto tu Il Padova Per curiosità Per cercare E' inasperato Il fatto che possa Pensare di andare A vincere a Empoli Un Empoli Che comunque È legato Fortissimamente A quello che è L'aspetto dei tre Lì davanti Perché Verdi Tavano E Maccarone Devono Se mantengono Alti I ritmi E le capacità E non abbassano I tempi Sono incontrastabili E quindi credo Il Padova Avrà Delle serie Delle serie Preoccupazioni Vado dai Politi Un Lanciano Che può far Preoccupare Il Latina Visto che arriva Dalla vittoria Contro l'Avellino Sì Arriva sulle ali Dell'entusiasmo Sicuramente Una squadra Compatta Organizzata Che darà Del filo da torcere A Latina Latina che però Risponde con La voglia La voglia dei tre punti La voglia Di smuovere Finalmente Questa classifica Un Latina Che potrebbe Tra l'altro Proporre delle novità Tra l'altro Anche per rispondere Al messaggio Di un telespettatore Sembra che Jonathan Buone notizie Sembra dall'emergenza Legata alla difesa Sono sulla via Del recupero Sia Capitan Milani Che figlio Meni E anche Pare Esposito De Giosa Invece Domenico Per De Giosa Ci vorrà un mesetto Perché è una brutta Distorsione Con interessamento Dei legamenti Quindi ci vorrà Ancora un po' Quindi prevedi Qualche cambiamento Comunque nell'undici Titolare Anche forzato Perché appunto Ecco alcune pedine Mancheranno Siamo in chiusura Mi è volata Come sempre Questa trasmissione Perché fra Ippoliti Te Poi questa sera C'era anche Io Lo chiamo il capitano Ancora Mi viene del capitano Però Alessandro Bruno Che ringrazio Per la sua presenza Grazie a Domenico Ippoliti Che sarai al Francioni Venerdì Vero? E certo Certo Mi hanno detto che vai ad aprire Il Francioni Tu di solito Beh sì Dobbiamo organizzarci E quindi è bene Prendere subito posto Organizzarsi Però specifichiamo Che nello spogliatoio Non ci vai Domenico Assolutamente no Bene Grazie ancora Alessandro Bruno E Domenico Ippoliti Ci vediamo lunedì prossimo In bocca al lupo In bocca al lupo Alessandro Buonasera Tu pendi leggermente Per Alessandro Bruno Ci pendi leggermente Si sente? Ti piace? Sempre apprezzato come giocatore? Sicuramente L'ho già detto Lo riconfermo Credo che sia Un elemento importante Non solo per il Latina Anche per quello che è la categoria E quindi Il Latina ce l'ha È giusto che lo faccia camminare A pieno regime Perché per avere risultati Bisogna che i propri giocatori Viaggino a pieno regime Hai un tifoso in più Alessandro Grazie Che è mister Non so Me lo sono segnato Quindi ho due Però questa settimana Ti riposi Quindi sei tutto nostro Anzi Questa settimana non riposi Perché tu vai a Latina A venerdì Quindi non puoi riposare Ci vediamo allora lunedì prossimo Sempre alle 21.15 Con Bordo Campo Serie B Vi ricordo domani sera L'appuntamento con Bordo Campo Lega Pro E poi a seguire alle 22.15 Bordo Campo Serie D Con Roberto Sardelli Grazie Ci vediamo lunedì prossimo